Mi apparivano infelici. Nella nostra casa non c'era calore, non c'era amore. I spazi erano ristretti, angusti, poca libertà, poca intimità. Io non volevo essere la regina della casa, io volevo appartenere al mondo degli uomini. Non volevo totalmente rifiutare mia madre, mia madre ama l'amore per i vestiti, per i capelli.